Ci siamo, domani sera alle 20.40, ci troverete qui su Canale 5 con Forum di Sera. Lì, ho portato il cuore, non vi riscando, eh. Ecco, appunto, io volevo spiegare una cosa ai nostri amici, che c'è qualcuno che ha pensato bene di chiamarmi in causa, come vedete. Esatto, aspetta, scusa. Sì, prego. Signorina, c'ha freddo, lei? Eh, sta meglio così? No, dunque, io, scusi, mi rivolgo anzi alla signora dalla chiesa. Sì? Non penserà certo che finirà tutto a taralluce e vino, credo, no? Le comunico che A, mi appellerò alla convenzione di Ginevra, B, ad Amsi International, C, a WWF e forse anche al telefono azzurro. Ecco. Scusi, signorina Andra. Dico solo questo. Lei è chi pensa di far paura? No, 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 ma niente, vediamo poi, no? Ci vediamo, io non faccio paura a nessuno, vediamo. Non pensi che finisca la taralluce e vino? Io mi sono impressionificata. Ah, non credo. Ma figuriamoci, io do soltanto appuntamento ai nostri amici domani sera alle 20.40 su canale 5 per forum di sera. Faccia, faccia pure.